Pronti per la verifica? No! Dai, l'ho fatta facile facile così l'ha passato tutti quanti Dai ragazzi, qualcuno vuole distribuire le verifiche? No! Allora vengo io, dai! Sono solo tre domande e risposta multipla, contenti? Dai ragazzi, anche con i banchi uniti, dai! Voi siete bravissimi, siete la mia classe preferita, veramente! Io ve lo propongo, se volete, mentre fate la verifica potete mettere le cuffie e ascoltare la musica Ragazzi, volete anche tenere gli appunti? Sì, anche il libro! Non c'è problema! Ora vi lascio 30 minuti, è poco, dite? Facciamo due orette? Che belli che siete, tutti concentrati, mi piace, mi piace questa classe Pronto? Mimmi, cara! Posso andare in bagno? Ma certo! Ma non chiedere neanche! Vai, vai! Mi puoi aiutare un attimo? Certo che ti do una mano, certo! Allora, qua ti dico qual è la risposta giusta? A, B o C? Valuta bene!